Ben ritrovati da Giorgia Galdi con il Tg 60 secondi di Battipaia 1929.it. Battipaia, emergenza Covid in città. Nelle ultime 48 ore sono stati registrati 44 nuovi casi di positività e nessuna guarigione. Bellizzi, chiusura della Maccaferri, l'avvocato capasso di coscienza sociale esprime tutta la sua solidarietà ai lavoratori e alle loro famiglie. Controlli, 245 sono le persone sanzionate per mancato uso della mascherina e tre persone sono state denunciate per inosservanza del divieto di immobilità. Campania, sono stati vaccinati con la prima dose 554.488 cittadini. Di questi, 242.020 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni sono state in totale 796.508. Sport, settimana nera per lo sport cittadino, sconfitta interna per Omeps Breakup contro fila San Martino di Lupari e sconfitta a Trani per la SD Battipaiese Volley. Finisce con quest'ultima notizia l'informazione quotidiana del Tg 60 secondi di Battipaia 1929.it. Finisce con quest'ultima notizia l'informazione quotidiana del Tg 60 secondi di Battipaia 1929.it.